Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Laura Pausini racconta un retroscena inedito che emoziona i fan, ma anche gli haters con il cuore più duro Tutto merito della figlia.Non ci sono dubbi, quando si dice Laura Pausini, si grida in alto il potere delle emozioni, la sua confessione è inedita, ma soprattutto commuovente Riguarda la figlia, però in una versione del tutto inaspettata tanto per i fan, che per la stessa artista Fare questa professione non è facile, alle volte si perdono alcuni aspetti della vita quotidiana, ma con grande sorpresa c'è sempre un modo per stupirsi in positivo Ecco cosa afferma la cantante, nessuno lo avrebbe mai immaginato È un momento di cambiamenti per Laura Pausini, i nuovi brani in uscita, concerti, e progetti con date di scadenza da rispettare Insomma, per la cantautrice non c'è un momento di pausa, lavora in qualsiasi momento Proprio per questo i fan la amano, e lei è così grata da dimostrare sempre un grande affetto nei loro confronti, anche mettendo del tutto in mostra la propria faccia Come? Raccontando eventi privati, che solo lei può conoscere Regala sempre un pezzettino di sé.Paola è la figlia di Laura Pausini, nessuno però è a conoscenza del fatto che questa ha un segreto custodito gelosamente anche alla madre La cantante rimane senza parole, si commuove mentre lo racconta, e con lei anche il pubblico Laura Pausini e Paola, retroscena inedito, che emozione.La rivelazione viene fatta dalla stessa cantautrice durante un'intervista per Radio DJ I suoi interlocutori sono Linus e Nicola Savino, punte di diamante della trasmissione radiofonica Racconta cosa le è successo, e perché sua figlia Paola l'ha lasciata senza parole Quanto accaduto è incredibile, e la stessa Laura si mette quasi a piangere Era circa l'una di notte, e stava ancora lavorando, quando accade l'impensabile La cantante era nel suo studio a registrare uno dei suoi ultimi brani, Dimora naturale, quando all'improvviso a l'una di notte circa, quando tutto tace e la notte porta i bimbi tra le braccia di Morfeo, la sua piccola Paola entra in studio Vede la mamma al lavoro, e le chiede con spontaneità a chi fosse dedicata la canzone Questa domame da stupisce in parte la cantante, poiché è noto che quando scrive e canta un brano lo dedica sempre a qualcuno Così, dispiaciuta per la mancata sorpresa, le dice che l'ha scritta per lei Allora, la figlia dimostra un'intraprendenza inaspettata, decide di cantare insieme alla mamma Durante l'intervista la Pausini confessa di aver sperato che fosse stonata, poiché è un mestiere che porta tante difficoltà, soprattutto pregiudizi se per giunta la mamma è famosa Cantano insieme, le emozioni traboccano, e quasi piangono nel raccontarlo ai conduttori La canzone è condivisa su tutte le piattaforme con entrambe le voci Sua figlia sa cantare, e sembra farlo proprio con lo stesso sentimento di Laura Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video